come vedete già il sistema di bloccaggio si blocca qui e blocca anche la vite e anche qua sotto in ogni caso io questo lo lascio sempre aperto perché poi insomma è la stessa trazione a bloccare la possibilità di andare su e giù del sistema di bloccaggio quindi questa si può sempre lasciare aperta questo qui l'ho montato io al contrario non ci fate troppo caso e così e allora questo è molto molto interessante questo è un limitatore che vi permette di limitare per l'appunto la discesa dell'intera troncatrice quindi andando a definire un punto standard di abbassamento che poi può essere assicurato con il suo controllato questo non tutte ce le hanno ed è sicuramente un vantaggio averlo qui ci sono vari sistemi di blocco dello scorrimento ad esempio lo vado a chiudere la troncatrice non scorre più in avanti e indietro questa è la sede per l'eventuale seconda torretta di blocco di fermo andiamo a bloccare un attimo qua vi faccio vedere questo è un altro sistema molto pratico di bloccaggio così la troncatrice resta chiusa ed è comodo nel momento in cui la si dovesse trasportare per sganciarlo semplicemente si tira fuori e la troncatrice torna nella sua posizione originaria che altro qua sopra c'è un interruttore indipendente per il laser laser che vi farà da guida nel taglio che altro il sacchetto aspira polveri o perlomeno il sacchetto per contenere le polveri aspirate l'aspirazione avviene per forzatura non c'è una vera e propria aspirazione semplicemente la rotazione come vedete in questo senso del disco che fa sì che parte delle polveri dei trucioli finiscano nel sacchetto anche se in realtà non è molto molto efficace qui sotto il sacchetto ha anche una cerniera per aprire e per svuotarlo voglio dire sono poche le polveri che finiscono là dentro considerate che la vostra area di lavoro comunque si sporcherà e se dovete tagliare dei metalli mettete sempre le protezioni perché qualche truciolo sempre vi può arrivare in un occhio anche sul petto e niente ora penso che la cosa più eloquente che possiamo fare è passare a una prova pratica quindi inizieremo con alcuni oggetti alcuni pezzi di plastica legno e per finire con il metallo e così potremo andare a giudicare quali sono le effettive potenzialità di questa troncatrice ah altra cosina molto importante che ora mi soviene è il laser qua c'è il laser che come prima avevo fatto vedere si comanda dall'interruttore posto qua sopra sul motore da questo qua c'è il laser che si può regolare a destra e a sinistra tramite queste due vitine uno e due altri tipi di regolazioni al momento non me ne sovvengono il motore tornando dal motore è un motore a spazzole cosa che comunque lo fa essere un pochino rumoroso ma comunque anche molto molto più versatile insomma questi tipi di troncatrici devono andare con motori a spazzole le spazzole si trovano non ci sono problemi nella sostituzione anche qui dobbiamo apprezzare il fatto che non sia una cineseria e niente andiamo avanti con la prova di taglio